Mantenere i contatti reali e non solo quelli virtuali con i cittadini elettori tramite la riapertura della sede, ribadire le emergenze del territorio comunale e lo spirito propositivo del programma elettorale. Questi messaggi arrivati ieri dal gruppo consigliare per una diamante migliore che ha incontrato la cittadinanza nella sala consigliare. Si è discusso dell'attività da poco intrapresa ribadendo alcune necessità ritenute imprescindibili dal gruppo, la formazione di una commissione per i regolamenti che sarà costituita nel Consiglio di venerdì ma che avrà tempi ridotti per approvare il regolamento sull'imposta unica comunale, la costante emergenza rifiuti, il problema del lavoro legato a doppio filo alla pratica delle esternalizzazioni, le politiche sociali e per la scuola, ripercorso di fatto il programma elettorale che sarà puntualmente ripresentato alla maggioranza. Speriamo, hanno detto i consiglieri del gruppo, che su dieci proposte almeno un paio possano essere accolte visto che, ad esempio, quella della zonizzazione acustica è piaciuta ad esercenti ed opinione pubblica, probabilmente anche per questo motivo che nei confronti della maggioranza non si sono verificati dei veri e propri attacchi ma dei più diplomatici richiami. Poi l'invito soprattutto, con l'apertura della sede, è quello alla partecipazione per coinvogliare tutte le forze positive che si stanno esprimendo in vari ambiti. Il gruppo consigliare e il movimento culturale sono la stessa cosa, hanno voluto precisare i consiglieri, quindi continueremo ad occuparci non solo di politica ma anche di promozione turistica, cultura e ambiente. In tal senso è stata presentata richiesta di autorizzazione per la pulizia volontaria del parco del Corvino e del percorso pedonale per i ruderi di Cirella.